E' papà, come mai sei così felice oggi? Oggi è l'anniversario di matrimonio di me e la mamma, ed è la prima volta che me lo ricordo in 15 anni. Grande papà. Già ormai ho una memoria di ferro. Potresti regalarle il profumo che le piace tanto, poi fai un bel biglietto e ci scrivi sopra, per Rosy. Chi è Rosy? E' come si chiama la mamma. Ah già, chiama la mamma, mi viene più facile. Comunque pensavo di regalarle un bel viaggio, le farò una sorpresa, partiremo oggi. Va bene, bravo papà. Grazie, Em, ecco, come ti chiami? Vabbè, grazie figliolo, amore, presto sbrigati, buon anniversario. Oh wow, grazie ma veramente. Niente parole, oggi è il nostro giorno, sbrigati sali in macchina, si parte per un bellissimo viaggio. Steven ma io ho delle cose da fare. Non ti preoccupare tesoro, anche io avevo delle cose da fare in ufficio, ma ho lasciato tutto a Martin, che sono sicuro mi starà sostituendo alla perfezione. Chissà quale mangerò per prima? Hai visto tesoro, sono riuscito a portarti nel posto in cui hai sempre voluto andare, siamo al Monte Rushmore. E' bellissimo Steven, però io devo dirti una cosa. Non dire niente, è un momento magico, niente potrebbe spezzare questo silenzio. Steven, non sono stato io, sarà stata sicuramente una delle quattro facce, che poi mi chiedo, come abbiano fatto a trovare quattro presidenti, da eleggere che assomigliassero a questa roccia. Oggi ti ho portata in tutti i posti in cui hai sempre sognato di andare, e adesso davanti a questo splendido tramonto, dimmi la cosa che vuoi dirmi da tutto il giorno. Steven ma il nostro anniversario è tra un mese. Oh, Em, tesoro, perdonami una volgarità. Porca puttana.